Ciao a tutti ragazzi, mi chiamo Nicola Bianchi e questo è il mio canale di fotografia. Sì, anche io ho fatto un progetto NFT e sto per raccontarvi tutto quello che dovete sapere per iniziare con il vostro. Prima di tutto partirei parlando di che cos'è un NFT per chi non lo sapesse. Un NFT è un known fungible token, cioè semplicemente un token, una specie di attestato virtuale digitale che certifica la proprietà di un'immagine o insomma che certifica la proprietà di qualcosa, in questo caso di un'immagine, e lo fa registrando una transazione sulla blockchain. Ora se non siete familiari con questi argomenti non spaventatevi perché mi rendo conto che sono un sacco di termini relativamente nuovi e siamo qui apposta per capire che cos'è una blockchain, che cos'è un NFT e come creare la vostra prima fotografia e fare il cosiddetto minting, cioè registrare la vostra prima immagine sulla blockchain per attestarne la proprietà ed eventualmente rivenderla. Chiaramente come prima cosa ci servirà avere una piattaforma che ci permette di acquistare criptovalute. Infatti per accedere alla fase di minting ci servirà pagare una piccola quota in criptovaluta. La criptovaluta di questa quota che pagheremo, le cosiddette gas fee, dipendono dalla piattaforma in cui andiamo a registrare il nostro primo NFT. Ora cercherò di spiegare tutto ma allo stesso tempo di farlo in maniera molto semplice e molto comprensibile. Il primo step è quello di iscriversi a una piattaforma che ci permette di acquistare criptovalute pagandole in euro o comunque nella valuta con cui vogliamo pagarle. Io sono partito con due piattaforme, quella che vi consiglio si chiama Binance, chiaramente troverete tutti i link, tutto quello che nominerò in descrizione. Ma la prima da cui ho acquistato criptovaluta si chiama Coinbase. Ora perché vi consiglio Binance anche se è leggermente più complicata l'interfaccia generale perché le spese che avete, le cosiddette spese di acquisto che si terrà la piattaforma come costi di servizio, sono decisamente più basse rispetto a quelle di Coinbase. Ma comunque spesso chi sta iniziando si appoggia a Coinbase perché è leggermente più semplice come interfaccia. Onestamente anche Binance non è poi così complicata e vi consiglio di iscrivervi e partire da lì. Considerate che l'iscrizione a Binance potrebbe richiedervi qualche giorno perché dovrete appunto certificare chi siete, registrare i documenti. Comunque è tutto super semplice e super sicuro, dovete semplicemente seguire le procedure. Se volete online trovate tantissimi video su come iscrivervi a Binance. Molto bene, ora che siete iscritti a Binance il prossimo step è capire su quale piattaforma, quindi quale criptovaluta vogliamo andare ad acquistare. Chiaramente dovete scegliere la criptovaluta in base alla piattaforma in cui vorrete pubblicare i vostri NFT. Per farvi un esempio le piattaforme più famose che ci sono al momento sono SuperRare, Foundation, OpenSea e tutte queste si basano sulla blockchain Ethereum. Per quanto riguarda la piattaforma che sceglieremo per mintare i nostri NFT, per pubblicare i nostri NFT, io vi consiglio OpenSea. Perché vi consiglio OpenSea? Perché rispetto a altre piattaforme vi permette di iniziare a pubblicare da subito senza avere bisogno di avere un invito per poter iniziare a pubblicare. Su OpenSea per ogni foto che pubblicherete non pagherete una fee, pagherete solo la prima fee, il primo minting. Da lì in poi pagherete il minting solo al momento della vendita. Mentre invece per Foundation dovrete pagare il minting per ogni singola foto che caricherete. Quindi per fare un esempio, se i costi per un minting sono di 30 dollari, quindi 0,00 non so quanti Ethereum. Bene, su Foundation in questo caso dovrete pagare 30 dollari per ogni foto che volete caricare su Foundation. Mentre per OpenSea pagherete 30 dollari per la prima foto, dopodiché potrete caricare tutte le foto che volete e quindi pagherete altri 30 dollari solo nel momento in cui venderete un'altra delle foto che avete pubblicato. Proprio per questo motivo ho scelto di appoggiarmi a OpenSea e non a altri tipi di piattaforme. Quindi se volete ad esempio registrare le vostre foto su OpenSea, vi occorrerà acquistare degli Ethereum. Quindi dovremo andare su Binance, comprare degli Ethereum. Io consiglio sempre di comprare una cifra tra le 150 e le 200 euro almeno per poter iniziare a fare le prime operazioni in tranquillità. E dopo che avremo scambiato i nostri 150-200 euro in Ethereum, dovremo trasferire questa cifra su un portafoglio virtuale che è riconosciuto dalla piattaforma a cui ci vogliamo appoggiare. Ora se appunto la piattaforma che abbiamo scelto è basata su Ethereum, di sicuro accetterà Metamask. Io ad esempio sto usando proprio Metamask perché è uno di quelli più semplici da setupare, è anche abbastanza sicuro. E quindi sì, io ho scelto di iniziare con quello perché è anche uno di quelli che si integra meglio con la maggior parte di piattaforme, soprattutto con Foundation e con OpenSea. Molto bene, a questo punto dopo aver aperto il nostro account anche su Metamask, possiamo andare a trasferire i nostri Ethereum da Binance a Metamask. Perfetto. E voi vi chiederete, ma perché ho bisogno di trasferire i miei soldi da Binance a Metamask? Perché la piattaforma, in questo caso OpenSea, vi chiederà di sostenere dei piccoli costi di minting, in realtà solo per il primo minting. E per questo vi scalerà una piccola percentuale dei vostri Ethereum. E chiaramente per farlo dovete avere degli Ethereum nel portafoglio che avete collegato a OpenSea. E il portafoglio che avete collegato a OpenSea è quello di Metamask, perché Binance non ha un portafoglio collegabile a questo tipo di piattaforme. Quindi sì, il primo step è trasferire i soldi da Binance a Metamask. Quindi molto bene, abbiamo aperto il nostro portafoglio su Metamask. Ora lo colleghiamo su OpenSea e facendo questo, in automatico, noi avremo un profilo di OpenSea. Quindi sì, il vostro profilo su OpenSea è legato al vostro portafoglio di Metamask. Questo chiaramente ci comporta due cose. La prima è che se vogliamo cambiare portafoglio, cambieremo in automatico anche account. E questo non dipende da noi. Semplicemente il nostro account è collegato al nostro portafoglio virtuale. E l'altra cosa però è che possiamo avere più portafogli e quindi più profili, più account. Anche perché, come avete visto, aprire un portafoglio su Metamask è completamente gratuito. Molto bene, a questo punto dalla sezione Crea di OpenSea potete appunto caricare un'immagine, selezionare una serie di opzioni che vi consiglio di scegliere, quindi potete selezionare il titolo, la descrizione dell'opera, eventualmente includere un link e aggiungerlo a una collezione. E a questo punto i vostri NFT saranno pronti per essere venduti. Avrete in alto a destra l'opzione Sell e sceglierete quale tipo di asta volete impostare e si siete. Tutto qua. Mi rendo conto che è veramente molto più semplice di quello che potrebbe sembrare. Ora, se volete effettivamente riuscire a vendere i vostri NFT, non dovete sperare che qualcuno li trovi dalla bacheca generale di OpenSea, perché ce ne sono tantissimi, ci sono un sacco di creator super famosi. Quello che dovete fare è iniziare a costruire la vostra community. Ultimamente anche Instagram sta diventando un social abbastanza utilizzato per gli NFT, ma ancora Twitter domina sotto questo aspetto, quindi sì, vi servirà un account Twitter. E soprattutto vi consiglio di creare un vostro server su Discord, se non lo conoscete anche come sempre trovate tutti i link di quello di cui sto parlando in descrizione. E io proprio di recente ho lanciato il mio server e quindi se vi va iscrivetevi al mio server, così vedrete come ho lanciato la mia prima collezione. E soprattutto potrete continuare a seguirmi in questa avventura sugli NFT. Vi vedo che non vi siete iscritti al mio server di Discord. Se avete qualche dubbio o volete farmi qualsiasi altro tipo di domanda, lasciatemelo qui nei commenti, oppure ancora meglio scrivetemela in chat su Discord. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Spero che potrà essere utile a tutti quelli che vogliono sperimentare con gli NFT e creare la loro prima collezione. E se questo video vi è piaciuto ricordatevi di lasciare un like e iscrivervi al canale. E in ogni caso ci vediamo nel prossimo video. Grazie a tutti.